Un saluto a voi, seguaci di Old Games Italia. Io sono il vostro Ojo e oggi vi parlerò di Utopia Syndrome, un'avventura grafica a episodi la cui data di uscita non è stata ancora annunciata, ma che molti su internet già definiscono essere l'erede indiretto di Sanitarium. E questa sua caratteristica sembra essere rafforzata dal fatto che il protagonista che vediamo qui ha il volto coperto da dei bendaggi. Il gioco è mistico, viene detto psicologico, lo ho avviato per la prima volta qui insieme a voi e i cari amici amici di Old Games Italia e lo provo quindi. È la demo, una demo uscita il 23 aprile 2020 e quindi possiamo partire. Il gioco è in inglese o in russo, ma non in italiano ovviamente, è solo una demo. La luce è l'oscurità, più vicino andrai verso la luce e più oscura la tua ombra diverrà. Un po' di così, questa filosofia quasi orientale mi verrebbe da dire. Il gioco non è ancora ottimizzato, infatti come vedrete la grafica non è altissima in quanto a livello di qualità, però scarseggia in quanto a fluidità, quindi purtroppo non posso farci molto col mio sistema attuale. Questo gioco ti guiderà attraverso il tempo per raccontare una storia di vite umane e del loro destino. Utopia Syndrome, the demo. Ups Caricamente un po' lungo. Mia, cosa ci rende umani? Cosa ci rende vivi? È la nostra abilità, la nostra capacità di vedere, ascoltare e sentire? La nostra capacità di pensare? La nostra capacità di percepire questo mondo attraverso il prisma delle nostre emozioni e dei nostri sentimenti. Scusate se parlo sopra il voice over che ho letto essere buono, dolore. No, non il tipo di dolore che porta a sofferenza psicologica. È il dolore incurabile di una vita vissuta e di decisioni che non possono essere più cambiate. Chi ci può aiutare a liberarcene? E come possono farlo? No, ma la grafica in realtà è più buona di quanto pensassi. E finora non scatta troppo, nonostante questi effetti nebulosi. Non so se sia pre-renderizzata però questa parte. Cosa ci rende umani? È la nostra capacità di sentire compassione per un altro essere vivente. È la nostra capacità di essere... Eh, sì, vabbè. Avrei voluto capirlo prima, Hanel. Adesso che sei qui, sei vicino, e io so che tutto andrà bene. Questa volta farai tutto perché vada bene. Svegliati, angelo mio, svegliati. L'angelo, quindi, torna ancora un po' quella iconografia vista in Sanitarium. Mi viene addirittura il dubbio che Hanel sia un nome già sentito anche in Sanitarium, ma forse mi sbaglio. Ci avrò giocato miliardi di secoli fa. Prologo. Eccoci qua. Quindi... Freddo. Il dolore, anzi no, il dolore, il dolore. È anche abbastanza freddo, direi. Il cuore. Mi sento morire. Vabbè. Muove, interagisci col sinistro e ruota la... Ah, si può anche ruotare. Oh, là, là. Perro. Perro. E non scatta nemmeno. Ho messo le impostazioni al minimo, ma insomma non... Non posso lamentarmi. Qua c'è qualcosa... No. Chi sei? Dove mi trovo? Non riesco a respirare. Aiutami, ti prego! Ma sono in cella? Oh, qualcuno apre la porta. No! La chiudono addirittura. Good. No, aspetta, non andartene. Non lasciarmi qui. Torna qui! Acqua. Allora, con lo spazio vediamo gli hotspot con cui possiamo interagire. Suppongo che il rubinetto, eccolo qua, sia uno degli hotspot. Una bottiglia e un rubinetto. Allora, proviamo a raccogliere la bottiglia. Sembra piuttosto sporca. C'è dell'acqua sul fondo. Crack. Eh, la beve così diretta, senza neanche darci un'annusata. Bleh. Alla riappoggi anche. Oh meh. Oh meh. Oh meh, tapino. Oh, è terribile. Era davvero, davvero terribile. È contaminata. Spero che non sia quel che penso che sia. Lo proviamo con il lavandino. Ah, non c'è altro che melma nera. È la puzza. Non mi interessa se sa di... Si rugge nella berrò. Beh, non c'è acqua potabile. No, non c'è acqua. Un po' da bere mi libererebbe la testa. Vediamo se... Oh, qualcosa si è... Attivato, quindi... I vari hotspot si attivano. Alcune ampolle, delle medicazioni. Il materasso è coperto di macchie scure, come... Sangue... Seccato. Per quanto tempo sono stato svenuto? Cos'è? Pillole, sembrerebbe. Difficile leggere l'etichetta. Analgesici. Consultare il proprio medico. Proprio quello che mi serviva. E le prende. Via. Ok, tranquillo. Respira. Vediamo se posso aumentare un po' il volume. Quindi? Ti senti meglio? Oh, questa roba è proprio buona. Ma cos'è questo posto? Come sono arrivato qui? Anhel, la voce nella mia testa. Mi ha chiamato Anhel. E questo è il mio nome? Può essere... Che sia... Un sincubo. Dannazione, pensa, ricorda! Posso respirare, sento dolore, sono vivo. Scelo. Sta davvero succedendo, vero? Quella voce, la sua voce, era così familiare. Ed è l'unica cosa di cui sono sicuro. Al momento. Sono le bars. Che è l'unica cosa che possiamo provare. Cosa? Dele sbarre? Questa è una prigione! Sono prigioniero? No! No! Non è possibile! Come sono arrivato qui? Ehi, tu! Mi puoi sentire? Perché diavolo mi tenete qui? Perché sono qui? Lasciatemi uscire! Dannazione, dannazione! Non riesco a ricordare nulla. Nemmeno al mio nome. Forza, pensa! L'uscita è bloccata, ma devo scappare. Verso la libertà. Ma sono mai stato libero? Ok, qua ho visto qualcosa, si è reattivato un backpack. Acqua. Rovinato, ma ancora solido. Gli spallacci sono un po' rovinati. Ma sembra come tutto ciò che è in questa donata stanza. Sporco e grigio. Che si confonde con la polvere. Vabbè. La frase è un po' più lunga, non sono riuscito a starci dietro. Perché cercavo di ricordarmi spallacci. Oh! Abbiamo indossato questo zainetto. Ci sono delle cose sul fondo. Disposte con cura. Forse qualcuno voleva uscire... No. Un sacco di roba in questa cella. Devo guardarmi attorno. Forse posso trovare degli indizi per ricordare qualcosa almeno. Diventato improvvisamente charliero. Anhel. Non riesco più a starti dietro per la traduzione. Uh! Possiamo passare... Cambiare proprio prospettiva. Però non ho visto come si fa. Allora... Questa cos'è? Uh! Wow! Quindi posso... Però non posso muovermi così. Non posso orientarmi. Ok. Allora abbiamo varie cose. Abbiamo gli analgesici, una chiave meccanica, un frammento di metallo, una pass, delle medicine e una fotografia. Andiamo un attimo in questa fotografia. Cos'è questo? Oh, ai, ai, ai. Allora, qualcuno ha avvolto con cura questa fotografia in una... Plast... Sì, in una... Vabbè, in una busta di plastica trasparente. Immagino volessero proteggerla dallo spruccizia e dal tempo. Tuttavia si è un po' sbiadita. C'è una... Così, c'è un taglio grezzo proprio nel mezzo, riattaccato con la colla. Sembra raffigurare una scena in campagna con una ragazzina vestita con uno splendido cappotto autunnale. I suoi lunghi capelli ricci le scendono sulle spalle. Con un enorme mucchio di foglie cadute nelle sue mani, la ragazzina sorride e fa finta di anusare il profumo di questo bouquet autunnale. Guardando questa fotografia riesco chiaramente a sentire l'atmosfera oscura, oppressiva di questa prigione. Vorrei tanto essere nel luogo dove questa fotografia è stata scattata e prendere un ampio respiro di aria fresca autunnale e osservare il mondo nella distanza, all'orizzonte, verso la striscia oscura della foresta, oltre quel campo recintato. Sono sicuro che anche solo una cosa del genere sarebbe sufficiente per farmi ricordare tutto ciò che ho dimenticato. Come vedete ci sono delle lunghe descrizioni, quindi se vi piacciono le avventure verbose questa sembrerebbe essere una di quelle. Allora, abbiamo diversi oggetti, vediamo infatti... Ok, abbiamo un piccolo cavalluccio ad ondolo Allora, con questa poca luce gli occhi sono piuttosto spaventosi C'è una piccola iscrizione vicino alla criniera, al mio caro Christopher, e dov'è il tuo padrone piccoletto? Ok, allora, che l'abbiamo visto... Questo, vediamo di nuovo... Oh, quello lì! C'è un passaggio in prima persona, interessante devo dire Una formula... piacevolmente... originale, mi verrebbe quasi da dire. Non ho giocato tutte le avventure grafiche di questo mondo però non mi pare che ce ne sono molte che abbiano questo tipo di approccio Abbiamo una leva Vediamo se adesso funziona Forse sì No Qui comunque c'è anche un quadro di comandi che chiaramente sarà fonte di un puzzle Allora, gli indicatori sono accesi ma il sistema non funziona Sembra che non funzionerà finché non inizierà ad entrarci acqua Ok, quindi l'acqua c'è proprio utile per attivare quel sistema che non ho idea di cosa sia fonte Vediamo quella parte della ventilazione Riesco a vedere un'apertura dietro quella griglia Forse larga abbastanza perché la mia mano possa entrare Sento anche altri rumori, mi pare Quel rumore C'è un'altra stanza oltre a questo muro Un'altra cella Ehi, laggiù Ehi Sono un po' troppo alto Ok Nessuna risposta Credo ci sia qualcuno oltre il muro Forse non sono solo Ehi, mi senti? Sono qui Ok Nessuna risposta C'erano dei gemiti spaventosi Osserviamo che abbiamo trovato una borraccia Potrebbe essere utile anche se è vuota C'è una nota Altre prove che c'erano altre persone prima di me in questa cella David, Sofia, Christopher è mia Mia Quante volte, devo dirvelo Questa cella non è un magazzino Quindi smettetela di piazzarci dentro le vostre robe Se ci fossero più persone altra noi Riusciremmo più facilmente a mantenere l'ordine Nelle circostanze attuali, tuttavia L'accesso alla cella deve essere limitato Per cui vi raccomando di pulire tutto E di smetterla di fare confusione con gli oggetti È un peccato che non abbiate mai incontrato il sergente Bradford Ricordo ancora quello che Era solito fare alla gente Per molto meno di quello che state facendo voi A volte penso che sarebbe in grado di riportare L'ordine che tanto manca in questo posto Avrebbe fatto ammirare Un ottimo primo piano delle mure di questa cella A voi ragazzini perattivi E questo per farvi raffreddare i bollenti spiriti Se non sono stato chiaro Usate il magazzino nelle vostre unità abitative Per tenere la vostra spazzatura e i vostri giocattoli Firmato Jacob Quindi che forse che siamo Dei ragazzini perduti anche noi Prendiamo questo cacciavite Che sicuramente ci sarà utile O forse solo un Red Guffin Ok la nota l'abbiamo già vista Quindi non ci serve rivederla Qui c'è spazzatura varia Vecchi giocattoli Stracci e a pari detriti Che formano una pila senza costrutto Ok questo l'abbiamo visto Toys Ci sono dei giocattoli qui Cubi colorati, piramidi e forme simili Immagino che sia per un set di costruzioni per bambini Una volta ispirava gioia Immaginazione senza fine Adesso sta soltanto accumulando polvere In questo pavimento lercio C'è un disegno Un oscura figura Con gli occhi rossi E i denti a guzzi Che minaccia un bambino che dorme E il nostro protagonista si domanda Se sia stato un adulto o un bambino A disegnarlo Ma sicuramente È il frutto di una mente disturbata Adesso non mi ricordo cosa dicesse Ma immagino fosse qualcosa del genere Altri giocattoli Un pannello elettrico Ma vediamo prima altre cose In questo armadietto di metallo Se c'è qualcosa di interessante Vabbè passiamo così Un Un nastro registrato Fatto con materiali improvvisati Cari lon Più cose trovo qui E più sono curioso Che cos'è tutta questa roba? Un equipaggiamento radio Sembra essere Usato dai militari Di quelli usati dai militari Ci sono davvero tante cose strane qui E' una cassetta di metallo Ci sono delle note Delle fotografie Di cose militari E anche Le ossa bruciate Di una foresta morta E vabbè eccetera eccetera C'è anche una nota Per cosa è meglio conosciuto Il bombardiere tattico a corto raggio B44 Black Angel I nostri lettori hanno scritto Un sacco di lettere Per saperne di più Di questo Eroe alato Eroe di guerra alato Adesso E' il tempo per alzare il sipario Sui segreti Che circondano Questo leggendario Veicolo da combattimento Della Royal Air Force Di sua maestà Ma chi vuole leggere I meri fatti Come La massima altitudine Il raggio massimo E il carico di bombe Senza leggere Le storie degli umani Le storie umani Di questi nostri coraggiosi piloti Nonostante il B44 Sia una meraviglia Dell'ingegneria E dei materiali E della ricerca e sviluppo Di materiali compositi E' privo di un'anima Di una mente E di un cuore Il suo cuore E' l'equipaggio Che Respira vita Che instilla vita In questa meravigliosa macchina E Le comanda Di far cadere a pioggia Una furia La furia dei giusti Sopra le fila del nemico Il suo cuore E' quello di uomini Senza paura Che si dedicano Anime e corpo Nel servizio Del loro paese Senza Distinzioni With distinction Ah no Con distinzione Nel senso E si distinguono In questo suo In questo loro Servire il paese Il cielo Le ha sempre chiamati E per i nostri eroi Il volo è stato Un sogno Fin dall'infanzia Il B44 Ha un incredibile Equipaggio Di 5 persone Il comandante Il comandante Dell'aereo E' alla testa Dell'equipaggio Un ufficiale Con un grado Non inferiore A quello di capitano Poi viene il pilota Il copilota Il mitragliere E l'operatore radar Insomma Come vi ho detto E' molto molto verboso La guerra Questa parola Mi porta alla mente Immagini di morte E distruzione Una città Annerita Senza nome In rovina Così tanta sofferenza E perdite umane Questo mi causa Un'angoscia Che non riesco bene A identificare Ma riesco a sentire Ogni suo dettaglio Ok Qua abbiamo visto tutto Vediamo sul tavolo Cosa c'è Tutte queste cose Starebbero meglio In una discarica Abbiamo Una tv Forse Sembra una tv Non so cosa servono Tutti questi bottoni Lo schermo è piuttosto rovinato Ma questa unità È ancora funzionante Più o meno Forse riceve Delle trasmissioni No Nulla Questo luogo Non sembra davvero Una cella Quasi un magazzino E tutte queste cose A chi appartenevano Beh ma questo L'abbiamo visto Nella lettera Là Vediamo questo Cassetto Rotto Nulla Se non Ammasso Di Strumenti Rotti Un oggetto Che non sia abbastanza Fidabile Non serve a nulla Se non forse A prendersi il tetano Questo L'abbiamo visto Abbiamo un altro Cassetto Ok Abbiamo ancora Un paio di robe Ci sono degli oggetti Degli strumenti C'è una torcia In questa scatola Finalmente Si ragiona Ma ovviamente Non funziona E non funziona E che sorpresa Ci sono delle batterie Ma la lampadina Si è bruciata Eccola qua Flashlight C'è anche un giornale C'è un frammento Di giornale La parte di un articolo E fotografie In bianco e nero Di equipaggiamento Agricolo C'è una scritta Qui nell'angolo Valle Inferno Vabbè Allora Andiamo un po' Sulle lunghe Con il testo Il Vice governatore Immagino Immagino Per agricoltura Gottfried Engel Ha detto Che la prossima stagione Potrebbe essere Fondamentale Per la maggior parte Dei contadini Le conseguenze Sono severe E sono gravi E non sappiamo Ancora Trovare un rimedio Il risultato È Che Le falde acquifere Che servono La maggior parte Delle fattorie Della Contea Non sono adatte Per l'uso agricolo Annunciato Raccomandiamo I nostri contadini Di sospendere Le loro attività Immediatamente E a tempo Indeterminato Oggi Durante un'altra Riunione D'emergenza Riguardante La crisi Attuale Nella contea Il governatore Bill Edwards Ha emesso Ha emesso Un avviso Simile I contadini Che continuano A dedicarsi All'erogazione Non filtrata O la riproduzione O la riproduzione Del bestiame Corrono Il rischio Di Andare Rovina Solo Coloro Che investiranno In un Trattamento Delle acque Adatto Saranno In grado Di sopravvivere A questa crisi La mia paura È che Le piccole Fattorie Locali Di questa Contea Per la quale Questa contea È famosa Potrebbero sparire Completamente Insomma Dei dettagli Su questo mondo Ma che Al momento Però Non ci dicono Molto di più Di dettagli Per ora Insignificanti C'era anche Questo file cabinet E poi Deve essere pronto Ad andare Verso Quella Electrical box C'è un pezzo Di carta Qui Con una bella Scrittura La pagina È pulita L'inchiostro È ancora Scuro Sembra Incredibilmente Puro Per questo posto Non vorrei Quasi toccarlo Sono triste Mi manca Tutto ciò A cui ero Abituato O abituata Tutto ciò A cui davvero Non prestavo Attenzione Pensando che Tutto sarebbe Stato mio O con me Ma adesso Inizio a comprendere Che Non sarà più così Ci sono cose Che prima o tardi Spariscono per sempre Talvolta Le dai per scontate E non vedi Ciò che è davvero Importante Dai valori Alle cose Che sono state Inventate Da qualcuno E pensi Che possono Soltanto Darti Felicità Inventata Non dovresti Arrenditi A queste Illusioni Dopotutto La felicità È spesso Molto vicina Ma Spesso Altrettanto Spesso Non te ne accorgi Torca vacca Quanti fogli Ci sono Sogni Di Comprare Un gattino Peloso Per il tuo Compleanno Ma ogni volta Che cammini Per la strada Cammini Oltre Lo stesso Gattino Ma Solo Che è sporco E senza Fissa dimora Mi manca Quel Gattino Randaggio Mi manca Il sole Chiaro Dell'estate E il vento Dell'autunno Che attraversava I campi Di grano Liberamente E Faceva Scricchiolare Le Persiane Del lattico Mi manca La risata Felice Che riempiva La nostra Casa Le risate Felice Che riempiva La nostra Casa Quando tutti Erano Riuniti Alla tavolo Della cucina Non sento Quel suono Da lungo Tempo Mia Ecco Quindi ho sbagliato Era una lei Sento Spesso Altri suoni Adesso E sono Davvero Spaventosi Non sono L'unica Che Prova Queste Sensazioni Tuttavia Tutti gli altri Sono troppo Spaventati Per ammettere Che anche loro Sentono Quei suoni Non sono Creati dal vento O da altro Come potrebbe Il vento Entrare in questo luogo O il sole O la pioggia Riusciamo a capire Che ora Sia Soltanto Guardando Gli orologi O Vabbè O le pendole Vabbè Insomma Gli orologi Orologi Da polso Abbiamo bisogno Che qualcuno Venga a salvarci Ma nessuno Lo dice ad alta voce Tutti Ci pensano È scritto Nelle nostre facce E nei nostri occhi E i nostri occhi Lo dimostrano Succede Ogni volta Che sentiamo Il vuoto Che ci circonda Firmato Mia Ok Mia Queste parole Sono così familiari Ok Dovremmo esserci ormai Dovrei aver visto Praticamente tutto Quello che era da vedere qui Quindi proviamo a vedere Il pannello elettrico A questo punto C'è un ronzio Lontano È un sacco di cavi Che escono da un fianco Ecco Proviamo a vedere Qual è il problema C'è qualcosa che manca qui Meglio non toccare il pannello Finché non sarò Al 100% sicuro Che sia sicuro Ecco L'abbiamo usato anche Sì Ma come faccio Proviamo a vedere Le sbarre Scintille Le barre sono Elettrificate Ma perché qualcuno Dovrebbe fare Una cosa del genere Sarà meglio Che sia lontano Non so se siano Volt o amp Ampere Non credo sia sicuro Farlo Allora Cosa potrei fare Piccole ampolle Sono disposte L'una vicino all'altra E avvolte in plastica trasparente Le etichette hanno nomi complessi e formule Il che rende difficile Comprendere a cosa servono Alcune di lampolle sono aperte E mezze vuote O mezze piene Canical K Ecco cos'è che fa Che rende pesante Lo zaino Un Vabbè Uno straccio Unto Vabbè Nasconde uno strano meccanismo Che è composto da varie parti interconnesse E Con la capacità di muoversi Questo meccanismo E' ben curato E' incredibilmente pulito Non ho dubbi Che sia parte di qualcosa di importante Devo solo capire Come e dove usarlo Frammento di metallo Questo frammento di metallo Ha un timbro di fabbrica 200 OF Middle Bully Numero 0888 Ok L'incisione era un tempo più lunga Ma solo questa parte del metallo è intatta E' difficile capire Cosa abbia spinto Questa persona A metterlo nello zaino Tuttavia Non riesco a Pensare Non riesco a smettere di pensare Che questa persona potrei essere io Ok Cosa facciamo Proviamo a usare questo Cacciavite No Ok Non vuole infilarlo In un Ammasso di fili Elettrici Allora qua non vedo altro Però effettivamente Vediamo se possiamo passare Nella Visuale In prima persona Cosa succede Scricco ancora più Nulla Ok Allora proviamo ad aprire Quella roba lì Allora Vieni qua Andiamo su sync Iniziamo a usare Il cacciavite qua Potrei romperlo Se facessi così Ci sarà un modo Per aprire l'acqua Urca Non avevo visto Questo Beh c'è anche questo Uno specchio Specchio un po' Offuscato Ok In pratica è difficile Oh Attenzione Oh cielo No No La mia faccia Non posso ne essere io Chi mi ha fatto questo Perché 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 Ok Comunque diceva Che era difficile vedere Le bende Sono sotto la mia pelle Che cosa mi hanno fatto No Smettila di guardarmi Mi senti Smettila Mi daranno un Oscar Dopo queste interpretazioni Comunque era uno specchio Rotto Con del sangue Forse al centro Piuttosto sofisticato Sembra un sistema Di trattamento Dell'acqua Mi mancano due filtri Credo che il sistema Blocchi Ok Ok in pratica Se non ci sono tutti e tre I filtri Il sistema è bloccato E non lascia passare l'acqua Allora Forse sono da qualche parte In questa stanza Quindi dovremmo Riguardare Forse tutto Vediamo fra I giocattoli Se troviamo qualcosa Le scatole Ok vediamo se trovo Adesso il filtro Cosa è questo? C'è un pezzo di carta Piegato in una delle scatole Vediamo cos'è La carta è piccola Ma qualcuno è riuscito A lasciarci dentro Una piccola nota Attento David È fragile Se solo tu sapessi Quanto è stato difficile Trovare questo qua In particolare Tienlo sicuro Spero che ti renderà felice Jacob Cosa c'è all'interno? Non so chi tu sia David Ma te ne devo una E abbiamo trovato Il light bulb Voilà Abbiamo attivato quindi Anche la torcia Oh E luce fu Forse riusciamo a trovare Qualcosa di più interessante Adesso Proviamo a vedere Sul tavolo Oh Ecco qua Una scatola di legno Con un bel filtro Dentro Wow Un filtro Un filtro d'acqua Dovrebbe essere adatto Per il sistema di filtrazione O almeno lo spero Vediamo se c'è altro Un altro filtro Ah L'altro filtro Adesso posso cercare di attivare Il sistema di filtraggio Dell'acqua Facciamolo subito Uno rosso Uno blu Ah ah E l'altro sarà giallo Forca no Non riesco a saltare I dialoghi Anche se li ho già sentiti Una cosa che ode dei giochi Ok allora Attiviamo il filtro Qua Banoing E un filtro dentro Sì Adesso lo facciamo subito Strana scelta di mettere I due filtri Nella stessa location Ma comunque Ci accontentiamo Tutti i filtri sono a posto Adesso posso provare Ad attivare il sistema Allora Con la leva Forse Ancora non funziona Proviamo ad attivarla così Sì Sì E acqua fu No Sì Perfetto Ok Sì Devo riempire un Continitore Non so per quanto tempo Il sistema Resisterà Quindi usiamo La nostra Cosa La nostra borraccia E la riempiamo D'acqua Acqua fresca Pulita Disse tante Et voilà E ora Spero che sia sufficiente Non so quante altre Possibilità Vorrò di riempirla E se non riuscissi mai A uscire da questo inferno E se tutto fosse inutile Dobbiamo buttare acqua Sul pannello elettrico Ok Niente Non è neanche quello Allora Proviamo a lanciarla Sulle Sbarre Non toccherò Quelle sbarre Va bene Non serve Essere così Arrabbiati Vediamo se troviamo Qualcos'altro Qui Non credo Allora Proviamo a rivedere qua Metal box Trano che non si può Interagire anche con queste Altre parti La radio Non va più Registrazione audio Scatola Scatola L'abbiamo già vista War Never Changes Oh no 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 Ci sarà un tasto Per saltare Ok Ok allora Qua mi sa che Altre cose Non ci sono Esaminiamo questa passcard Al tatto Questo pezzo di carta spessa Sembra quasi A metà Tra cartoncino liscio E una plastica molto sottile L'iscrizione Sulla fronte Dice Passcard E sul Angolo inferiore destro C'è un Timbro rotondo Con un Simbolo triangolare Card numero 0A Razioni Per la giornata estesa No Day Razioni estese per la giornata Questa card È considerata valida Solo se ha Un Timbro standard E la firma Del Furiere O del Magazziniere Che dir si voglia Ok Allora Non abbiamo altro Però cosa fare Aspetta un attimo Ah no Anche ruotando Non c'è nulla di nuovo Quindi Gli analgesi E li abbiamo presi La borraccia È a posto La card Quindi Possono anche più Interagire con quello Vediamo Se col disegno Se Mettiamo su questo No C'è altro Comunque possiamo interagire Sono strabloccato Ah Qua non c'è nulla C'ho la luce Quindi dovrei forse Illuminare Qualcosa In un angolo Che non vedevo No Eppure Non capisco Oh Che succede Ohi C'è qualcosa qui sotto Aiuto Sono sicuro Che l'avrei mai trovato Incredibile Una Bottola La via per la salvezza È sempre stata sotto I miei piedi Non ha alcun senso Perché mai qualcuno Vorrebbe Mettere una Bottola In una cella C'è qualcosa che non va In questo posto Ma comunque Il basso Potrebbe essere La mia via Verso l'uscita Allora usiamo La chiave meccanica Sulla botola Ok Devo guardarla Probabilmente È una botola Come si dice Di sicurezza Non posso Semplicemente Spaccarla Ok Quindi dovrei avere Un quadro più completo Adesso Oh no Boh Paura Cosa diavolo Era quello Potrei giurare Che c'era qualcuno Là fuori Devo uscire Da questa danata A cella Subito Deve esserci Un modo Per aprire Questa botola Vedete C'è una copertura Qui E una cavità La cavità La andiamo subito A riempire Con questo Ok Dovevo sapere Che non poteva essere Così facile Entra ma È bloccata In qualche modo Qua c'è una cover La copertura La copertura Non si muove Devo aprirla Con qualcosa Forse con il cacciavite Oh yeah Oh yeah Oh yeah Genius Ci sono delle Come si chiamano Degli ingranaggi Ci sono dei cavi Ok Posso muovere I cavi No Posso muovere Queste cose qui No Ok Forse devono essere Tutte giù così Ok Non so perché Ma forse ha funzionato Sì Luce Ha funzionato Credo che abbia funzionato E ho recuperato anche la chiave Che sembrerebbe essere Un elemento fondamentale In questo giuoco Ma Funziona o non funziona Sì Funziona Ah La via verso il basso È molto lunga Che cosa mi attende In fondo Cosa sto facendo qui Perché non riesco a ricordare nulla Chi sono io Mi sta facendo Un male tremendo alla testa Vuoi uscire o no Cos'era quella figura Che mi osservava nelle tenebre Giuro di averla vista E la mia faccia Sembra davvero un incubo E non posso svegliarmi Deve essere così Un sacco di domande E nessuna risposta Abbastanza per rendere pazzo chiunque L'unica via di uscita da questa cella È verso l'oscurità in basso Beh Proviamoci Quale difficoltà possa Porre di fronte a me questo Nuovo cammino Sarà sempre meglio che starmene qui dentro E questo era il prologue Di questa Utopia Syndrome Che è in demo gratuita Su Steam E uscirà forse in estate Ma non è ancora chiaro Io comunque a questo punto direi che vi ho mostrato abbastanza Il video è venuto anche più lungo di quanto Mi aspettassi Spero vi sia piaciuto Il gioco sembra interessante Un po' troppo Charliero per rappresentarlo bene in video Comunque spero di avervi dato un'idea abbastanza precisa di quello che vi attende Oltre a questa jumpscare che ho appena avuto Anche se la mia voce è rimasta Salda La mia La mia mutanda Si è un po' Immarronita Io vi saluto Vi lascio La sigla finale E ci rivediamo Dopo il cambio Della biancheria intima Un saluto dal vostro Ojo Marrojo Grazie a tutti